buongiorno a tutti buon lunedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti sono diversi pensionati che ad agosto potrebbero avere diritto ad arretrati non riscossi vediamo subito chi riguarda e come poterli richiedere nel video che segue prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci grazie molti beneficiari della pensione di reversibilità ad agosto 2024 potrebbero aver diritto ad arretrati non riscossi vediamo come verificare e richiedere tali somme per evitare di perdere denaro negli ultimi anni inps ha avviato una revisione delle pensioni di reversibilità per determinare eventuali importi arretrati dovuti tale processo è stato avviato in seguito a una sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la decurtazione dell'assegno in presenza di altri redditi senza stabilire un tetto massimo inps sta ricalcolando quindi diversi trattamenti per verificare se siano state applicate riduzioni eccessive generando un credito retroattivo la corte ha chiarito che le non possono superare il valore annuo dei redditi aggiuntivi riconoscendo il diritto agli arretrati fino a cinque anni precedenti in molti casi tuttavia potrebbe essere necessario presentare una domanda soprattutto se l'istituto non procede automaticamente al pagamento del rimborso per evitare di perdere somme che potrebbero spettare di diritto è importante seguire questi passaggi prima di tutto bisogna contattare inps per verificare lo stato della propria pratica se gli arretrati non risultano ancora liquidati è necessario inoltrare una richiesta formale utilizzando un apposito modello chiamato pre è molto importante agire entro i termini di prescrizione dei cinque anni dopo i quali il diritto decade pertanto è consigliabile attivarsi subito per non perdere eventuali mensilità non ancora ricevute con pochi semplici accertamenti è possibile ottenere le somme dovute dall'inps evitando di perdere denaro che spetta di diritto